Ciao, creatura, io sono Eka di Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Gullai, A-S-M-A. Siamo tornati al martedì dell'hall, ritorno con un hall del mercato, il tuo preferito, creatura, grazie per il tuo like, ricordati prima di addormentarti di lasciarmi un commentino, grazie mille, grazie, 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 e grazie per esserti iscritta, creatura. Allora, ho comprato poche cose perché, come avrei letto dal titolo, questo è un hall più story time perché questo era il martedì 25 giugno. So che siamo già a luglio, ma sai che mi sono portato avanti quei video, ecco, questo è il 25 giugno 2024, che cosa è successo? Un disastro, un disastro, un disastro dietro l'altro. Vabbè, quindi ti mostro il hall e poi facciamo lo story time e ti racconto le mie disavventure barra avventure, le mie avventure diciamo dai, più belle, disavventure sempre negativo. Anche perché si sono concluse tutte bene, quindi problem solving, level pro, problem solving, allora come al solito ho fatto i video col telefono, quindi... Flippiamo da un lato, sono partita dal mio paese e c'era il sole, poi a metà strada ho iniziato a più vicinare, poi ho iniziato a più vicinare con il sole. Cioè c'era tutto, il clima proprio, qualsiasi cosa c'era, poi sono arrivata e c'era un caldo, beh, molto caldo, molto molto caldo, c'era il sole, tant'è che ho messo il coprisole, il parasole, come si chiamano, sulla mia auto. Perché essendo nera, acchiappa un sacco di calore, cioè, sono incandescenti le auto bianche, figurati piccolina e nera, cioè, sottotire, e quindi le avevo messa in modo tattico, ho chiesto in un palazzo, che così le faceva ombra, però, oltre a quello ho messo anche il parasole, proprio per essere certa che non fosse incandescente dopo. E sono stata lì, mi ero già pianificata la giornata, perché sono andata, la mia testa era, vado al mercato, poi resto su a mangiare, e poi dalle due alle quattro avevo un appuntamento, diciamo, di lavoro, e quindi, non volevo fare i suoi gioie, sono andata e restata lì, forse è stata un'idea, un'ottima idea, forse no, chi lo sa, lo sapremo dopo, nello story time. Comunque, c'erano poche bancherelle, perché effettivamente il meteo preannunciava temporale, però, era un paio di giorni che il meteo preannunciava, temporale, poi aveva, c'era stata una piogerellina nei giorni precedenti, quindi, nessuno aspettava quello che sarebbe successo, nessuno se l'aspettava, quindi, il mercato, c'era il sole e qualche pancherella c'era, e, non so, appunto, lì in Berlino, sapevo se, anche perché sono andata lì molto prima, mezz'ora prima dell'orario in cui vado, solitamente, proprio perché dopo volevo tornare con calma, mangiare e poi andare via per l'incontro e, praticamente, ero indecisa sul fatto se fossero delle pancherelle in ferie, perché giugno, perché era giugno, giusto, oppure se erano, se erano troppo presto e dovevano ancora arrivare, oppure se non ero venuto per il pericolo, ma il tempo, diciamo, e, però, fatto sta che dopo, anche dopo, verso le dieci, non sono mai arrivate quelle pancherelle, proprio quella che mi interessava a me, dei calzini, non c'era, vabbè, tralasciando questo, io ero lì principalmente perché volevo acquistare dei calzini, che non ho acquistato, ma ci tornerò martedì prossimo, quindi, nessun problema, e, allora, quindi, sono andata direttamente in fondo, dove ci sono le pancherelle più frizzanti e sono andata nella mia classica preferita, questa qua, 2 euro, dove di solito acquisto le maglie, quelle di marca per mio padre, mio padre prendimi un'altra maglia, e, spoiler, ho preso le cose per me, vabbè, un regalo per mia madre, per chi qui non c'è, regalo, ma ho il video, quindi, te lo mostrerò comunque, chi mi segue su IG ha già avuto lo spoiler di queste cose, e, però, probabilmente, non se le ricorderà neanche più, perché sono passate due settimane, una settimana, non lo so, comunque, cercavo delle maglie estive, per poterle mettere al lavoro, così, insomma, sobrie, eleganti, sobrie, eleganti, no, sobrie, ho preso quella verde l'ultima volta, no, l'ultima, una volta, non mi ricordo l'ultima, comunque, ho preso quella verde con le ranocchi, che mi sono messa, molto bella, molto cute, e questa volta, però, mi sono presa questa, di marca, a 2 euro. Come puoi vedere, originale, Levis, è una S. Una taglia S, credo siano, c'erano tutte taglie piccole, altrimenti avrei preso un'altra t-shirt per mio padre, però c'erano tutte taglie piccole, e credo fossero da uomo piccole, infatti, la taglia S, normalmente, non mi va bene, perché mi è piccola, invece, questa mi sta giusta, quindi, probabilmente, appunto, è una taglia S da uomo, e a me non sta oversize, sta perfetta, di solito non ho mogliete, di solito indosso sempre moglie oversize, ma, secondo me, per il lavoro è un po' più carino avere una moglie, cioè, che si sta giusta, ecco. Poi, è semplice, è blu, rossa, nera, e c'è la scritta Levis in bianco, semplice, però, allo stesso tempo, essendo di marca, è cool, ecco, diciamo, sempre se la Levis è ancora una marca che va, non so, perché in quelle banchinella ci sono un sacco di maglie Levis. Lele a me stanno troppo larghe, a mio padre sono troppo piccole, quindi, ho troppo risolesse per me. Me l'ero appoggiata qui sopra, con le spalle, così. Prendo questa parte qua, e vedo, me la poso così, e vedo dove arriva la mia spalla, in base a questo capisco se mi va bene o no, e, infatti, era perfetta. Poi, nella stessa bancarella, 2 euro, c'erano un sacco di cose, anche maniche lunghe, giacche, o, beh, poche perché hanno visto il maltempo, hanno deciso, hanno ben pensato di portare meno t-shirt, e più cose invernali, non lo so, comunque, fatto sta che avevano anche tirato fuori pochi, pochi, pochi capi, forse perché, appunto, avevano paura, poi, che iniziasse a piovere, all'improvviso, cosa che poi è successa, e quindi, con meno capi vuoi, poi tirarli dentro per più velocemente, ecco, è stata una buona idea, comunque, loro fanno il mercato da anni, quindi, sanno come funziona, e, vabbè, ho preso una gonnellina troppo carina, forse, forse, ho anche il video dove indosso queste cose, perché, appunto, avevo fatto un try, try, un haul su IG, se ancora non mi segui, mi trovi con un mercato splendente, e, ogni tanto, appunto, quando compro poche cose, magari faccio un piccolo haul, così, spoiler, solo per chi mi segue su IG, quindi, se vuoi gli spoiler dei video, vieni a seguirmi. Beh, nero su nero, che dire, anche a te, si vede benissimo, vabbè, comunque, metterò il video dove lo sto indossando, è una gonnellina elasticizzata, appogata sempre a 2 euro, appoggio qua al micro, uno, cioè, è la zigizzata, che ha un po' di pizzo, un po' di tulla, ed è molto carina, super gotica, e, è taglia M, quindi, a me sta giusta, perché, a tante volte, mi stanno tritte, invece, qui sta un bel elastico morbido, o è comoda, insomma, è bella, c'è un po' di raso, un po', ha diverse tipologie di stoffe, che starebbero bene proprio in un vestito gotico, e, sicuramente, questa, in un negozio specifico per persone dark, e, un negozio specifico, costerebbe molto, 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 molto di più, soprattutto, insomma, perché, perché lo stile, ecco, piace, perché è fresca, è stata tutta svolazzante, quindi, è, anche se è nera, però, la metterò, ovviamente, la metterò presa per l'estate, e, è fresca, nonostante sia nera, e, con tutti i pizzi, e, con i merletti, come si diceva, poi, dopo, perché, noi rispettiamo sempre le tradizioni, nella pancarella, da 50 centesimi, ho preso... una camicia, maniche corte, ovviamente, è bella, leggera, anche questo è un bel tessuto, aspetta che andiamo a leggere il tessuto, sicuramente la, la t-shirt, levis, cotone, e, la gonna, e, mi sembrava che, cioè, essendo tulle e pizzo, sarà poliestere, aspetta, voglio leggere anche la tipologia di stoffa della camicia, perché è molto leggera, allora, mi metto gli occhiali, aspetta, levis è 100% cotone, e, tra l'altro, questa, è fatta in, made, made in El Salvador, è una taglia S, original collection, urban surface, la marca, invece, c'è, c'è ancora, sull'etichetta, c'è ancora un bottone di riserva, quindi è praticamente nuova, perché 50 centesimi, c'è la roba usata, no? Questa, praticamente nuova, made in Bangladesh, 100% viscosa, questa è la fantasia super estiva, no? Con i fiorelloni, tipo hawaiani, mi piace troppo, ovviamente, è il tipo palme, ovviamente, se vedo una cosa con dei fiori, la compro, perché c'è la fissa, già lo sai, già lo sai, creatura, quindi, bella, molto fresca, molto, mi è piaciuta, comunque l'ho indossata, qua da qualche parte, la vedrai, è perfetta questa, anche questa è un S, probabilmente, anche questa è da uomo, perché le taglie S da donna, di solito, mi sono striminzite, quindi, sicuramente da uomo, ma noi che ci frega, che ci frega a noi, per niente, uomo o donna, l'importante è che ci piaccia, e quindi ho portato a casa un'altra camicia da 50 centesimi, come da tradizione ormai, bene, poi ho comprato una borsa, c'erano le borse a 3 euro, 2 borse, 5 euro, e so che mia mamma la voleva, e allora io le ho preso, lei la voleva gialla, stavo guardando qui, come era fatta, e poi ho il video che avevo fatto proprio a mia mamma, perché mi ha detto, mi fai vedere com'è la borsa che mi hai preso, e lei ha detto, certo, nessun problema, allora le ho mandato direttamente il video dove gliela mostravo come una venditrice del mercato, insomma, mi è piaciuta, mi sono divertita, mia mamma si diverte, perché quando vado al mercato le mostro, ah, guarda, c'è questo a 3 euro, c'è questo a 1 euro, cioè, ti serve qualcosa? io già che sono lì, acquisto, invece mio papà è più, mi serve questo, questo e quello, io glielo trovo, invece mia mamma le mostro e le chiedo, perché lei è un po' più difficile, quei gusti, ecco, invece mio papà qualsiasi cosa prendo, è contento, ecco, quindi faccio così, e, insomma, quella borsettina a 3 euro ci sta a un buon prezzo, secondo me era anche un bel materiale e finta pelle, e bella perché aveva appunto la catenella e la tracolla, e aveva anche la tasca interna, e una tasca esterna con un bottoncino, era l'ultima gialla rimasta di quel materiale lì, quindi l'ho presa da da ruba proprio il giallo, c'erano tanti altri colori, e io quelli non li uso, però effettivamente se pensi con 3 euro puoi prendere anche una borsettina da regalare, secondo me potrebbe essere apprezzato per chi utilizza borsi colorate, ecco, e, piccolina, proprio estiva, proprio estiva, e adesso andiamo allo story time, e, allora, sono andata appunto al mercato, poi dopo, verso le 10 e mezza, così, circa, stavo guardando le t-shirt a un'altra pancherella, dove c'erano sempre t-shirt a 2 euro, e, spoiler, non ho trovato neanche una che è bella, cioè, io l'avevo vista come è bella, e poi è passato, io non l'ho fatto in tempo, mi sono passata davanti a tutte le signore anziane, e è arrivato un tizio, le ha presse tutte, ce n'era una con Bart Simpson, volevo prenderla a mio papà, è passato, lui l'ha arrivato, è andato a pagare, e ne aveva un mucchio così, ho detto, beh, le ha presse tutte quelle pelle, e, infatti, dopo, non ne ho trovata neanche una, e, poi, ho alzato gli occhi al cielo, ho visto che stava arrivando un mega temporale, allora ho detto, beh, me la rischio, me la rischio, e sono rimasta lì a guardare le t-shirt, me la sono rischiata, era meglio se andavo a casa, anche perché, ehm, non l'ho trovato, dopo me la sono rischiata per niente, perché non l'ho trovato il t-shirt, perché mi dispiaceva andare a casa senza una t-shirt, che mio papà mi aveva chiesto la t-shirt, e, vabbè, tanto torno martedì prossimo con la speranza che ci sia bel tempo, comunque, allora, una certa dico, vabbè, torno a casa, a casa, tra virgolette, torno verso la macchina, che l'ho parcheggiata davanti a casa di mia mamma, perché mia mamma sta rovigo, e allora mi incammino, c'è un bel po' di strada da fare da lì, dal mercato, e allora mi incammino, arrivo verso quasi metà strada, inizia a piovere, e io, ovviamente, non avevo l'ombrellino, perché, giustamente, l'ombrello che avevo l'avevo in auto, giustamente, cioè, ehm, cosa ti fai, te lo porti via, no? Perché l'ombrello grande lo tengo per l'emergenza in auto, però non avevo, cioè, quando sono partita dall'auto, dal parcheggio al mercato, c'era il sole, c'era caldo, quindi, l'ho detto, non mi porto via l'ombrello grande, che è anche ingombrante, non ci sta nello zaino, c'è il sole, e poi giro come una pirla per tutto il mercato, con questo ombrello in mano che mi occupa una mano, lei mi tiene una mano occupata, e per niente, invece, e allora, iniziano dei bei coccioloni, faccio per cazzarana, incidenti, però, dicevo, al cielo, resisti, resisti, fino a che arrivo a casa, ti prego, resisti, dentro di me pensavo a questo, no? E quindi, venivano giù di coccioloni, ma una volta ogni tot, non vissino, non tanto veloce, quindi ho detto, ce la posso ancora fare, perché se no, l'idea era di fermarsi sotto una tettoia e aspettare, per fortuna non l'ho fatto, e ho detto, e me la rieschio, me la rieschio, la fortuna premia gli audaci, andiamo. Allora, vado a un passo camminata veloce, poi arriva una specie di incrocio, e lì, attraverso correndo, perché stavano arrivando due auto, e c'era una donna con l'ombrello, che mi guardava a correre e correre, perché non era italiana, era di colore, non so, e non so di quali origini, e come se non sapeva l'italiano, mi va a correre e correre, e volevo dirgli, stella, dammi l'ombrello, c'è, corre e correre, cosa mi spotti, non ho capito perché mi spotteva, perché c'era la pioggia, io stavo correndo, ma io stavo correndo, solo per non farmi investire, non tanto per la pioggia, lei col suo ombrello, che mi spotte, vabbè, il karma, si sarà stata fulminata, quella dopo un po', perché, a me è arrivato tutto un karma positivo, lei non so, allora, vado con il mio passo, veloce, ecco, che, ho la fortuna di avere le gambe lunghe, quindi, un mio passo è, tre di una persona bassa, ecco, l'abbiamo constatato di recente, e, e niente, diciamo che stavo arrivando, verso, l'appartamento, ero molto vicino, inizia un po' più a piovere, un po' più, un po' di più, ecco, e mi ha fatto troppo sorridere, che c'era, lì stanno facendo dei lavori, stanno costruendo, dei nuovi appartamenti, gli appartamenti, lì in quella zona, spucano fuori come i funghi, proprio, cioè, in tre giorni, non costruiscono un appartamento, no, in tre giorni, non esagero, però in poco tempo, costruiscono sempre, dei nuovi palazzi, un muratore, che stava anche lui, mettendo via la roba, perché aveva visto la malparata, e, mi guarda, e mi vede tutta traffilata, lì, che, con il mio tainetto, vado a velocità, sostenuta, e mi fa, dai, vai, vai, mi ha incitato, e io, sono quasi arrivata, gli ho urlando, e lui, vai, vai, mi faceva il tipo, per me, mi ha fatto, mi ha incoraggiata, e allora ho detto, beh, l'ultimo step, lo faccio di corsa, e allora ho fatto di corsa, e con me, ho, sono arrivata al cancello, e ho detto, avevo le chiavi, speravo che, eh, fosse aperto, ed era aperto, e come ho aperto il cancello, ho iniziato a venire giù, l'acqua, mega temporale, e io ho detto, oh mio Dio, l'ultimo step, e allora ho fatto, tipo, pochissimo, o tipo, non so, dieci passi, neanche perché correndo, si diminuiscono, perché mi allungo, ora di più, la palcata, e quindi, sono andata, alza, insana e salva, anche se piove, non mi succedeva niente, diciamo, asciutta, sana asciutta, tra virgolette, pochietto bagnata, pochissimo, forse era più sudore, che acqua, la pioggia, e sono entrata nel palazzo, e sono salita su, e poi, ho fatto i video, e all'inizio, inizialmente, avevo aperto le finestre, perché c'era caldo, poi non mi andava, di giorno, di tenere la luce accesa, quindi, avevo aperto, le finestre, tutto, per far luce, ma dopo, è iniziato a piovere, sembra di più, sembra di piove, tutto, e, solo che, qual era il mio pensiero? Il mio pensiero era, alle, a luna e mezza, dovrei uscire, perché alle due, ho questo incontro, dovevo arrivare lì, a piedi, speriamo, che spalli, che c'è, a meno pioggia, e tutti, mi chiamavano, mi arrivavano messaggi, cose, perché, pian piano, si stavano allagando, tutte le strade, ho mandato le foto, di davanti, casa di mio papà, che c'era praticamente, un fiume, la strada, era un fiume, era tutto, per fortuna, che la mia auto, non è parcheggiata lì, perché è parcheggiata, da un'altra parte, a Rovigo, e, e quindi, insomma, ho detto, per fortuna, che sono andata via, a questo punto, perché, se no, la mia macchina, restava sott'acqua, perché, essendo una smart, piccolina, figurati, fa sott'acqua, subito, allora, che succede? Pranzo, insomma, io mi faccio le mie cose, come se non la fosse, e, pranzo, e, eh, poi decido che, verso l'uno e mezza, se, la situazione, non fosse cambiata, se ci fosse stata sempre temporale, temporale, sarei rimasta lì, a casa, e poi sarei, tornata, al mio paese, oppure, sarei andata, eh, allora, ho aspettato l'uno e mezza, ho visto che, più vigile là, c'era, un po' più, più vicinava, sono andata in macchina, ho fatto il cambio, ho messo giù le cose, dallo zaino, ho messo giù le cose, che avevo nell'anzaino, o dell'acquisto, e ho preso, i miei documenti, quelli che mi servivano, e ho preso l'ombrello, e mi sono messo anche la felpa, perché nella macchina, ho sempre, una felpa, e delle cose, insomma, sono tutte super attrezzate, e tutto ciò, c'era sempre il parasole, la mia auto, mi faceva travorire, l'ho lasciato su, ovvio, doveva proteggere la mia auto, e, che è per dentro, è per dentro, quindi non protegge un cacchio, è dalla pioggia, è se grandinava, era dentro il parasole, però dentro la mia testa, il parasole, mi protegge l'auto, quindi va bene, ho vinto a tutti, ho vinto a tutti, e allora sono andata, a, sono andata verso il centro, di Rovigo, tutto a posto, insomma, ho trovato delle vie, dei momenti, con, marciapiedi, parcheggi, allagati, allora, non mi andava dietro in chiesa, perché poi dovevo pensare, a una strada alternativa, che era molto più, lunga, e potevo trovare, altre strade, altre vie, altri pezzi di strada, allagati, quindi, il primo ostacolo, diciamo, che ho trovato, un pezzo di, parciapiede, barra, parcheggio, dove dovevo passare, andare dritta, allagato, era sia da un lato, che dall'altro, allora ho guardato, non passava nessuno, sono passata in mezzo alla strada, e, l'unico pezzo, non allagato, era messa la strada, e sono passata lì, dopo, la strada che faccio, di solito io, al sicuro dalle auto, era tutta allagata, con una macchina, proprio galleggiante sopra, sembrava, poveretta, sarà da buttare, quell'auto, e, allora sono andata, rischiandomela, nel tratto di strada, che non era allagato, essendo a piedi, insomma, la puoi anche, puoi andare, dove, dove cacchio vuoi, perché, ti muovi velocemente, a piedi, e scattaio, e quella, dopo, ho fatto, una salita, una discesa, arrivo in un punto, dove, non so se troverò, perché non ho fatto video, ovviamente, stava piovendo, e non avevo, cioè, non so, sono stata lì, a documentare, a dire, aspetta che faccio un video, no, io, mi sono, mi sono vissuta la situazione, in prima persona, l'ho, affrontata, e basta, però, ho visto che su, io non ho facebook, quindi, adesso vedrò come, perché mi mandavano cose di facebook, io dicevo, come le apro, che non ce ne ho, ok, comunque, non mi piace come social, quindi, c'era un profilo lì, ma non mi ricordo neanche la password, vedete, e, praticamente, c'era questo pezzo di strada, davanti alle suore, lì c'è un convento di suore, proprio lì davanti, è proprio, beh, vabbè, e, tutto è lagato, c'era l'acqua che arrivava alle ginocchia, quindi, immaginati sulle auto, dove arrivava, era un tratto piccolino, si arrivava, alla rotatoria, e già non c'era più acqua, lì, proprio, sulla discesa, sul punto più basso della discesa, e, e, mi ritrovo lì, con altre due persone, c'era un vecchiotto, e una ragazza, ha presente quei vecchiotti in piccioni, che discesa rompono il carro, che si mettono a fissare, i lavoratori, tipo, nei cantieri, ecco, era uno di quelli, ma, in questo caso, la sua impigione, la genita, non so come si dica, il suo fare, l'impigione, ha servito qualcosa, e ora faccio io, e adesso, come passiamo? anche perché, con le scarpe di tessuto, se andavo dentro, potevo anche sollevarmi i pantaloni, ma le scarpe, mi si insuppavano tutte, poi io dovevo andare all'incontro, con le scarpe di tessuto, cioè, anche no, prendermi la bronca polmonica, insomma, allora, pensiamo una soluzione insieme, allora lui fa, potremmo fermare, siccome passavano comunque delle auto, rischiandosela, ma passavano perché in auto, riuscivi a passare, anche se c'erano le onde, proprio del mare, sembrava di attraversare un fiume, ma c'erano letteralmente le onde, perché quando passavano le auto, spingevano l'acqua, era, è stato imbevibile, allora, ferma una macchina, c'era una ragazza dentro, fa, potresti accompagnarla di là, lì dove c'era la rotatoria, fa, sì sì, e, ho detto, madonna, e questa ragazza, che era lì, anche lei ad aspettare, sale su questa macchina, con questa ragazza, e io guardo il vecchio, dico, vabbè, è andata di fortuna, chi vuoi che ti fermi per me, la macchina dopo si ferma, mi fa, poi se ti accompagno, io sono il ragazzo, della ragazza, che c'è nella macchina davanti, salita su, grazie mille, faccio, ero un po' imbarazzata, perché non mi aspettavo, e poi mi sentivo, in una situazione, che o lo fai, o lo fai, perché non si poteva passare, tra un quarto d'ora dovevo essere dentro, allora gli spiego, io dovevo andare, però ho detto, lascia, perché mi ha chiesto, dove devi andare, ho detto, no no, non ti preoccupare, lasciami pure lì, nella rotatoria, e poi mi arrangio, va bene, allora, gli ho detto, mamma mia, io ho la smart, non sarei riuscita a passare in auto, se fossi andata con la mia smart, sarebbe, si sarebbe bagnato subito, non lo doveva e tutto buttare tutto, e quindi, ma anche la sua macchina era piccolina e bassa, però non era una smart, era più grande, era a quattro posti, e fa, ma anche io sono preoccupato, infatti, e pian piano siamo riusciti a passare, mi ha accompagnato, ho detto, grazie mille, proprio una questione di, meno di un minuto, ecco, e qualche secondo, un tratto di strada di qualche secondo, con la macchina poi, e praticamente, fa, ve le faccio grazie mille, grazie mille, insomma, gentilissimo, perché uno potrebbe dire, no, arancia, diciamo, nel senso, però siccome si era fermata la sua ragazza, allora anche lui ha pensato di fare questa gentilezza, quindi ringraziamo la ragazza, che ha avuto la gentilezza iniziale di fermarsi, e spero che abbiano preso spunto anche altri, per altre persone, poi ho visto uno in bici, che è trappallata, e ha messo giù i piedi, e si è bagnata fino al ginocchio, poveretta, e poi dopo alla fine sono riuscita ad arrivare, alla destinazione, io come niente ho fatto le mie due ore, che dovevo fare, e poi, ero un po' preoccupata, dico, speriamo che quando torno indietro, la strada sia scombra, sia asciutta, perché appunto, se no non so che strada devo fare per tornare, invece poi quando sono tornata, sono uscita appunto alle 4, qualcosa, e c'era il sole, e c'era tutto asciutto, però prevedevano ancora temporale, quindi sono rimasta lì, un po' verso le 5 e mezza, sono tornata, verso casa, perché appunto, davano temporale, però volevo aspettare, che si asciugasse tutte le strade, perché mi avevano detto anche che, al mio paese c'era tutto lagato, e anche i sottopassaggi, io avevo un sottopassaggio da fare in auto, e avevo paura appunto che fosse impraticabile, pure che fosse come la situazione che avevo visto in centro a Rovigo, invece per fortuna ho trovato tutta la strada pulita, e senza acqua, e sono tornata a casa sana e salva, anche la mia auto, e quindi niente, è andata bene, però ho ripensato tutte le volte che io aiuto le persone, anche gli estranei, cerco sempre di aiutarle, quindi ho pensato al Carmano, che in una situazione del genere, è quel ragazzo lì, il vecchio in piccione, e il ragazzo che mi hanno aiutato, è stato molto bello, insomma, perché non sapevo chi fosse, ero un estraneo, però visto che eravamo tutti in difficoltà, è bello quando ci si aiuta a vicenda, come si può, e niente, tutto bene, ciò che finisce bene, tra l'altro io in queste settimane sono stata in un posto, che si chiama Censer, dove c'è l'università, ci dovrò essere anche venerdì dalle 9 alle 18, e proprio al Censer c'è stata il 25, c'è stata la tromba d'aria, che ha scoperchiato l'Aliber, che è lì vicino, che è un centro commerciale, un supermercato, e per fortuna che non eravamo al Censer, l'ho detto, per fortuna che non ero al Censer, perché sennò mi volava via la Smart, sicuramente, che brutto, mia, quindi, insomma, è andato tutto bene, e questa è stata la mia avventura, non vedo l'ora di tornare a un altro mercato, sempre martedì prossimo, devo comprarmi i calzini, e sperando che ci sia bel tempo, così tirano fuori anche più cose, posso anche acquistare altre t-shirt, o vestiti, o cose del genere, sicuramente mi saranno i calzini, però, perché con questo caldo, ne ho rotti un sacco, perché, avevo ancora quelli che avevo preso su Shein, e a forza di indossarli, si sono rotti, oppure, ogni tanto ne perdo uno, quindi li ho tutti sbagliati, vabbè, è un disastro, comunque, quindi devo fare un po', acquistare i calzini, perché poi, sudo, quindi lì, li cambiano ogni giorno, dopo lavandoli, sì, si consumano, quindi niente, bisogna che ne compri un bel po', e spero che questo video ti sia piaciuto, io come sempre ti auguro, buonanotte, buon relax, ciao creatura!